bene buonasera oggi siamo un po in in emergenza non sto usando il software solito per trasmettere infatti nemmeno la sigla nemmeno la musica della sigla perché oggi uso solo la live dalla mia gopro intanto è partita già la sigla del podcast che vado intanto a condividere prima di tutto sul gruppo il gruppo che ricordo Casus Belli il nostro gruppo il più grande dal punto di vista del World Game Grazie a tutti 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 Giorgio Grazie a tutti 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 Ricordiamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti